Dopo un anno e mezzo di fatto si torna in campo, il 26 settembre finalmente si riparte per una nuova stagione, giocherete all'Acquaviva di Teramo, con quali obiettivi? Intanto l'obiettivo primario è ripartire, perché come ha detto dopo un anno e mezzo c'è tanta voglia. Poi questa è una società con un passato glorioso, è la provincia di Teramo, e quindi noi faremo il possibile per portarla a categorie più alte. Che tipo di squadra è stata costruita? La squadra è una buona squadra, certo che come ho detto faremo di tutto per fare il possibile, per andare su di categoria. Siete ancora in attesa di conoscere le avversarie, visto che le iscrizioni sono ancora aperte, però il campionato di terza categoria è sempre comunque difficile da disputare. Sì, 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 la terza categoria secondo me è una forse anche delle più difficili. Vedremo un po' che squadre ci sono, già sappiamo che ci sono squadre ben attrezzate, quindi non sarà facile, però noi diremo la nostra. L'obiettivo di questa fase è anche quella di costruire il gruppo, come si soltanto in questi casi. Beh, soprattutto in queste categorie il gruppo è fondamentale, non è facile, però ce la faremo. Grazie. 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 Grazie.